All'ex di Guglielmo di Bisaccia si contano 3.000 prestazioni ambulatoriali all'anno, 300 day service, un impegno costante dei medici per garantire assistenza, prevenzione e ridurre la mobilità passiva verso altre regioni. È il report emerso durante il convegno dedicato alle patologie cardiovascolari. L'obiettivo è quello di interfacciarci con i medici di medicina generale, di creare un'integrazione ospedale-territorio per fare in modo da poter dare alle popolazioni di questo territorio la migliore assistenza possibile, almeno per quanto riguarda la patologia cardiovascolare. Credo che l'obiettivo sia stato raggiunto perché la presenza numerosa sia a Sant'Angelo sia questa mattina qui dei medici di medicina generale lo stanno a dimostrare. Presente anche il dirigente della cardiologia del Sant'Ottone Frangipane, Gennaro Bellizzi, che focalizza l'attenzione sull'ampliamento della rete dell'emergenza. La nostra è l'unica rete attualmente funzionante in tutta la campagna. L'abbiamo istituita da 11 anni ed è una rete che ha dato delle risposte importanti perché è riuscita a soccorrere persone colpite da infarto fin nel luogo della loro residenza, attraverso la collaborazione con il 118, attraverso la convenzione che noi abbiamo con l'azienda ospedaliera Moscati di Avellino. Quindi noi in questo senso siamo un po' un'avanguardia rispetto al resto della regione che non a caso sta realizzando una rete più ampliata prendendo spunto proprio dalla nostra.